Ciao a tutti voi da Rosy, l'appuntamento della nostra vetrina dell'auto, oggi con la concessionaria Lazari parleremo di Hyundai e ne parleremo con Matteo Zagheno, ciao! Rosy, buonasera, bentornata, è un piacere rivederti e soprattutto è un piacere rivedere tutti i nostri cari telespettatori, è una serata stupenda, parleremo della gamma Hyundai e ci troviamo alla Lazari Auto SPA, noi siamo concessionaria ufficiale Hyundai per la provincia di Lodi e per il sud milanese, quindi abbiamo una grande area e abbiamo un prodotto unico che è Hyundai, 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, per le macchine ibride a batteria 8 anni di garanzia sul pacco batteria e soprattutto sono macchine in pronta consegna che godono di eco-incentivo e sono tutte ibride elettrificate. Bene, direi che hai fatto un'ottima premessa, adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutta la gamma. Esatto, esatto, esatto Rosy, allora iniziamo subito con la nostra piccolina, il segmento utilitario Hyundai i10, macchina super confermata, ultimo restyling, tutta rinnovata, come vedi è una macchina super full optional, dai cerchi in lega ai sensori di parcheggio, touchscreen con l'Android Auto, l'Apple CarPlay, sistemi di sicurezza anti investimento pedone, ciclista controllo di carreggiata, macchina quindi city car ma ben servita, vettura che abbiamo in diverse opzioni di motore, benzina 66 cavalli, GPL 64 cavalli con l'impianto BRC garantito 5 anni e c'è anche una versione turbo da 100 cavalli sportiva, quindi abbiamo tre motori differenti, Rosy, pronta consegna, diversi colori, partiamo da 16.950 euro, è una macchina che gode di vantaggio sia permuta che rotamazione, quindi il prezzo può soltanto che migliorare, ci vediamo in ufficio, lo facciamo, 35 rate da 89 euro, un valore futuro garantito di 9.576 e un piccolo anticipo 4.650, questa è una macchina furba. Assolutamente sì e ricordiamo che l'anticipo può essere anche la vostra permuda. Assolutamente sì, poi lo quantifichiamo sempre insieme, assolutamente, certo. i20, perché ha bisogno di un pochino più di spazio rispetto alla i10. Sorrido Rosy, ma perché la i20 è una macchina che dopo l'ultimo restyling che ha appena fatto sta veramente vendendo a cifre importanti, macchina di 4 metri, classico segmento B, segmento molto affollato, ci sono tantissimi competitor, parliamo di che cos'è la nostra i20, allora macchina con tre motori differenti, GPL, benzina o addirittura ibrido leggero 48V, per chi sta a Milano, per chi vuole il libretto con scritto ibrido, la facciamo. Due versioni Connect Line, come questa, o Prime, super accessoriata. Parliamo della versione di partenza, cerchi in lega, fari full LED, retrocamera, sensori di parcheggio vetro oscurati, touchscreen per l'Android Auto e l'Apple CarPlay, climatizzatore manuale, cruise control, con tutto il pacchetto di sistemi di sicurezza, pedone, ciclista, carreggiata, conducente, gli ADAS sono sempre di serie, macchina in pronta consegna, macchina veramente molto interessante. La i20 parte da 20.000 euro di listino, gode di sconto per muta o rottamazione, quindi se avete un usato, una macchina a rottamare, vi aspettiamo, abbiamo i conti da fare insieme, si fa un gran preventivo, ve lo posso assicurare. Parliamo di 99 euro rata per 35, un valore futuro garantito di 11.400 euro e un anticipo piccolo di 4.650. Perfetto, anche qui piccolo anticipo che può essere la vostra permuta, ma soprattutto una cosa importante, hai detto che è un segmento affollato, quindi se avete le idee confuse, perché ce ne sono tante, venite qui comunque anche a provare i20 perché sicuramente è una gran macchina con tanti accessori e insomma. Matteo ve la spiegherà. Confermo. Ed ora Matteo che cosa ci presenti? Allora parliamo di vettura adatta anche a un discorso di famiglia senza dover spendere un budget importante. Allora passiamo dall'i20 alla Bayon che è un segmento crossover, guida alta, è la richiesta più importante del mercato, guida bella alta. 4,14 m di vettura, motorizzazioni benzina, ibrida o GPL. Quindi vado a colpire tre fasce di clienti completamente diverse. Ha tantissimo baule, l'hai visto prima, è spaziosissimo. I posti a sedere dietro anche perché è un bambino sono veramente comodi ed è una vettura sempre in pronta consegna. Optional, ricchissimi, sensori, retrocamera, cerchi in lega. La si può avere anche bicolore con il tetto nero e sotto cambiare la tinta, bianca, rossa, blu, veramente particolare. Interni, contagiri digitale, touchscreen con Android Auto e l'Apple CarPlay, tutti i sistemi di sicurezza per la famiglia. La Bayon li ha, anti-investimento, carreggiata e conducente. Prezzo piccolo. Bayon parte da 21.600 euro. Gode di permuta a rottamazione perché è una macchina che ha le classi inquinanti a regola quindi può farlo tranquillamente. 109 euro per 35 rate mensili, un valore futuro garantito di 10.875 e un piccolissimo anticipo 5.630. Questa, Rosi, è la Bayon. L'hai vista l'altra volta, la si vende tantissimo. Assolutamente sì. Sottolineerei una cosa importante che non tutti sanno probabilmente, l'alimentazione è anche GPL sui 10, sui 20, su Bayon e adesso proseguiamo con il resto della gamma. Matteo, questo è un mezzo veramente particolare in tutto. Rosi, ad ogni puntata ti presento una chicca, per chi ci segue da casa lo sa benissimo, Staria. È l'ultimo pezzo che ci è rimasto, è andato completamente a ruba, è un prodotto unico, motore diesel 2.2, 177 cavalli, cambio manuale nero metallizzato e 9 posti. Quindi mi riferisco a tutte quelle persone che hanno bisogno di un 9 posti, diesel, con l'ultima omologazione Euro 6D, quindi è perfetto per la città, di venire a vederlo. Il prezzo parte da 43.500 euro e facciamo trattativa riservata per trovare poi un prezzo conveniente. Assolutamente sì, anche per chi lo usa come navetta o per chi ha una famiglia numerosa, insomma gli utilizzi sono tantissimi, il prezzo è straordinario, motore diesel per chi fa tanti chilometri. Bravissima. Proseguiamo. Rosi, come posso non parlarti della Hyundai Kona? Eh, assolutamente no, bellissima poi eh. Macchina stratosferica, l'ho già presentata anche nella precedente puntata, ci tengo molto a rifare un focus perché è A, il nostro cavallo di battaglia, B, è il gradino sotto alla Tucson per quei clienti che cercano una macchina un po' più compatta ma senza perdere la guida alta, lo spazio, l'estetica e il discorso di SUV. Concentriamoci sul prodotto. La nuova Kona è famiglia crossover, guida alta, dimensioni 4,35 metri, un passo molto lungo, ha tanto spazio dietro per dei bambini, per fare sci, per andare in montagna, è una macchina molto duttile e ha il baule molto capiente. Motori. La Kona vanta i motori di ultima generazione. Possiamo darla quindi. Benzina, 120 cavalli, manuale o automatica, puro benzina sto parlando Rosi. Possiamo fare il 120 cavalli ibrido leggero, mild hybrid, per un cliente magari che non vuole spendere troppo sul full hybrid. Possiamo darla full hybrid, automatica, 141 cavalli, vettura che fa i 24 km con un litro, percorre fino a 90 km orari in batteria, macchina che in città gode nel vero senso della parola, i consumi. Possiamo darla anche elettrica. La Kona è anche una vettura che nasce full electric, due pacchi batteria diversi, per percorrenze che vanno dai 350 ai 550 km di autonomia elettrica. Optional, sempre di serie il pacchetto sicurezza, i fari full led iconici anteriori, si accende tutta questa mascherina anteriore, retrocamera, sensori di parcheggio. Altro focus importante sullo schermo interno perché è uno schermo tutto unificato, il contagiri è connesso al navigatore, è veramente bello, clima automatico, abbiamo tutto il pacchetto sicurezza e le versioni sono diverse. Questa è una versione X-Line e per la casa madre Hyundai sarebbe la versione di partenza, in realtà è già super accessoriata, accattivante, con questi fascioni è bellissima. Dopo vi faccio vedere anche la N-Line, la versione più sportiva, cerchi del 18, mascherine in tinta carrozzeria con il doppio scarico posteriore e gli interni con le finiture rosse. Prezzi? La Kona parte da 28.500 euro, gode sempre di vantaggio permuta o rottamazione perché la classe inquinante è bassissima, parliamo di macchine ibride, parliamo anche di una quota mensile molto molto bassa e qui il cliente può scegliere se fare un finanziamento con valore futuro garantito da conteggiare insieme in ufficio o un piano d'ammortamento tradizionale con l'anticipo scelto dal cliente. Quindi veramente è in pronta consegna, ho la macchina test drive, ve la faccio provare, ci sediamo, solitamente le vendiamo tante di Kona. Meglio di così non si può, venite qui naturalmente. Rosy, proseguo con il Tucson, macchina iconica, super conosciuta, gira in tutta Italia, vettura in pronta consegna, gode di vantaggio permuta e rottamazione, versione full hybrid 230 cavalli, mild hybrid 150 cavalli e per quel cliente diesel è rimasto anche qualcosa di diesel ibrido. Prezzo della Tucson da 31.950 euro, anticipo 6.6, 35 rate 789 euro, valore futuro garantito 22.723 euro. Rosy, una chicca importante, la Ioniq 6, è appena arrivata in questi ultimi mesi, la stiamo coccolando, macchina per un cliente elettrificato, la vediamo dopo insieme, macchina stratosferica, 77 kilowatt di batteria, oltre 600 chilometri di autonomia, optional unici e rari, versione che è da trattativa riservata, parte da un prezzo di 66.000 euro, con degli sconti importantissimi. Rosy, il tempo è tiranno, è stupendo stare con te, avrei anche tantissime vetture chilometri zero, i 10, i 20 e Bayon da presentare, vi aspetto a visionarle anche sul nostro sito internet e vi auguro una buona serata dalla Lazari Auto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!